Nuovo giro di nomine nella diocesi di Teggiano Policastro. Il vescovo padre Antonio De Luca ha nominato Don Donato Romano quale parroco della parrocchia cattedrale Santa Maria Maggiore in Teggiano. Don Vincenzo Gallo invece sarà il parroco della parrocchia San Giacomo Apostolo in Monte San Giacomo. Don Antonio Calandriello sarà la guida della parrocchia Santissimi Pietro Apostolo e Benedetto Appolla. Don Ivan Sarto invece è il nuovo parroco della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Casalbuono e guiderà anche la parrocchia San Giuseppe in Fortino. Don Pietro Scapolatempo sarà parroco presso la parrocchia Santa Marina a Santa Marina e della parrocchia con cattedrale Santa Maria Assunta Policastro Bussentino. Don Simone Lacorte invece sarà il parroco della parrocchia San Pietro Apostolo a San Giovanni Appiro. Don Agnello Forte invece sarà il parroco della parrocchia Immacolata a Scario. Don Antonino Savino invece sarà amministratore della parrocchia San Demetrio a Morigerati e della parrocchia Santissima Annunziata a Sicilì. Il nuovo parroco della parrocchia San Giovanni Battiste di San Nicola di Bari a Rocca Gloriosa dal primo settembre prossimo sarà Don Emanuele Cammarano. Don Saverio Monaco invece assume l'incarico di amministratore delle parrocchie San Nicola di Bari e di San Cono a Castelcivita. Invece Don Fabio Pannullo sarà il nuovo parroco della parrocchia San Nicola di Bari a Controne.